Madri, sorelle, figlie, amanti, spose, donne in carriera, di campagna o di città, donne al potere in tempo di guerra, donne sparite nel nulla, donne usuraie, postine, cassiere, spacciatrici, donne strateghe. Sono solo alcuni dei ritratti tracciati da Angela Iantosca nel suo viaggio alla scoperta della faccia più nascosta dell'andrangheta, la dimensione femminile, e del ruolo delle sacerdotesse dell'onore e della tradizione. Onora la Madre, edito da Rubettino e presentato domenica scorsa nella biblioteca comunale di Cittanova, ha il merito di restituire al lettore il ritratto di una donna dal potere enorme, non più o non solo semplice vittima, ma protagonista attiva della vita dell'organizzazione, che a volte si pente e collabora con la giustizia, rivelando importanti segreti e mettendo in pericolo la tenuta di interi clan, e altre volte rivendica con orgoglio la propria appartenenza. Una donna nata e cresciuta nella cultura mafiosa, che non conosce alternative e crede, come Teresa, a cui è dedicato il libro, di non avere sogni, o che, in fondo, non importa, tanto ormai ho 17 anni. Onora la Madre, storie di indrangheta al femminile, è il mio primo libro, edito da Rubettino, con una prefazione che mi è stata regalata dal professor Enzo Ciconte. Ho deciso di scrivere questo libro ormai più di un anno fa, quando ho iniziato a leggere delle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia Giuseppina Pesce. Dalle sue parole, grazie alle sue parole, un intero clan è stato smantellato, il clan appunto dei pesce di Rosarno. E allora mi sono posta una domanda, se una donna è in grado di fare questo, che cosa sanno le donne o che cosa hanno sempre fatto finta di non sapere. Per questo motivo ho iniziato a raccogliere materiale, a realizzare interviste, a incontrare storici, giornalisti, a leggermi 16.000 pagine di atti giudiziari e soprattutto a entrare nel tessuto connettivo della Calabria, a cercare di ascoltare questa terra che ha tanto da raccontare e che spesso non viene ascoltata in maniera corretta e viene spesso travisata e mal raccontata. Da questo è nato appunto un viaggio attraverso i ruoli delle donne nell'andrangheta, ruoli che sono cambiati nel corso del tempo. Se all'inizio, alla fine dell'Ottocento, erano donne che si vestivano da uomini e andavano in giro a compiere scorribbande insieme appunto ai compagni e quindi rischiavano anch'esse di essere arrestate, in una fase successiva vengono sottratte all'attenzione del pubblico e vengono rinchiuse nelle case per svolgere la funzione per la quale sono nate e cioè essere madri e quindi educare i figli ai valori dell'onorata. Grazie in seguito agli arresti, agli omicidi e alle latitanze degli uomini sono state costrette a venire alla luce e quindi da qui abbiamo intestatari fittizi, epostine, usuraie ma anche spacciatrici e donne di potere anche più violente per certi versi degli uomini stessi perché per loro prima di tutto sangue chiama sangue. Grazie appunto alle collaborazioni di giustizia è emerso questo loro ruolo, le donne che collaborano purtroppo sono ancora poche, qualcuna ce l'ha fatta, qualcuna no perché è stata suicidata, come si dice, è stata costretta a ingerire dell'acido muriatico ma la speranza diciamo che sono i figli, le nuove generazioni e probabilmente l'unica arma che si può usare è l'arma della cultura ma accanto a questa calabria dolorosa c'è un'altra calabria che è la calabria delle donne coraggiose, delle donne che hanno detto di no, delle donne che sono vittime loro malgrado perché i genitori, i fratelli, i mariti sono stati uccisi perché hanno detto di no, perché si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato e nonostante questo hanno deciso di rimanere in questa terra e cambiarla. Teresa è la ragazza alla quale dedico il libro, ha 17 anni, l'ho incontrata al santuario della Madonna di Polsi e mi ha raccontato, sono riuscita a farle raccontare un po' la sua storia e a 17 anni ha deciso di lasciare la scuola e liceo scientifico e di rimanere a casa con mamma per dedicarsi alle faccende domestiche. Quando le ho domandato se avesse dei sogni perché non è possibile che i ragazzi a 17 anni non abbiano sogni, lei mi ha detto per un attimo si è acceso un guizzo negli occhi e mi ha detto che avrebbe voluto fare la pediatra, andarsene in Africa e stare con i bambini, ma ormai a 17 anni. Ecco, quando ho sentito dire quella parola ho deciso che il libro era giusto che fosse dedicato a lei perché non ci siano altre Teresa. Chi sono? Sicuramente con una passione smodata per la legalità fin da bambina e ho iniziato a occuparmi degli ultimi già a 17 anni nonostante mia madre appunto mi dicesse di stare a casa e occuparmi delle cose di famiglia invece di andare magari alla Caritas o a dar da mangiare ai poveri o alle varie marce della pace. Sono nata in una città che è latina poco attiva e poco sensibile ma per fortuna ho trovato un gruppetto di amici con i quali abbiamo messo su la prima bottega del mondo quindi del commercio eco e solidale e da quel momento ho cercato appunto di ascoltare, di stare attenta ai bisogni delle persone maggiormente in difficoltà e ho sentito il dovere morale di iniziare questo lavoro, cioè quello di giornalista. Ovviamente non si comincia da dove si vorrebbe ma il percorso è lungo perché il mio primo articolo era sulla sagra del carciofo di Sezze quindi ecco di strada ne ho fatta tanta, collaboro con tantissime testate giornalistiche per poter alimentare e nutrire questo mio sogno che coltivo appunto privatamente e spero che questo sia il primo di una serie di tanti libri.